buongiorno a tutti e benvenuti al webinar dal titolo tristar 330 f tecnologia cromotrivalente di nuova generazione ad elevate prestazioni per applicazioni decorative il mio nome è il ganardi lavoro nell'ufficio marketing di coventi italia e oggi vi do il benvenuto assieme al relatore e mio collega alberto chiappa buongiorno alberto che è anche manager per il settore decorativo e più p per l'italia prima di iniziare con la presentazione vera e propria vi do su un paio di informazioni tecniche tutti i vostri microfoni sono in modalità muto se avete qualsiasi tipo di domanda vi prego di utilizzare il menu che si trova alla vostra destra li potete inserire le domande e noi risolveremo qualche minuto alla fine della presentazione del webinar per rispondere a tutte le domande che sono arrivate nel caso per motivi di tempo non fossimo in grado di farlo vi risponderemo poi in seguito via email anche per le webcam che adesso vedete attivate all'inizio della presentazione vera e propria da parte del baruto e disattiveremo in modo da lasciarvi più spazio per concentrarvi alla presentazione bene iniziamo con una breve panoramica dell'azienda allora il gruppo coventia è nato nel 1927 come società continental parker la sua sede quartier generale si trova a bilneuve lagarenne nei soborghi di parigi quindi in francia siamo nella top 3 dei fornitori globali di specialità chimiche per trattamenti di superficie a livello mondiale abbiamo una presenza globale in 60 paesi in cinque continenti questo ci permette veramente di avere una rete capillare vicino a tutti i nostri clienti oltre alla presenza capillare possiamo vantare 13 siti produttivi in tutto il mondo e nove centri a rendi questo in modo da soddisfare i nostri clienti in tempi veramente rapidi abbiamo anche delle certificazioni di qualità la iso 9001 in primis la iatf 16 949 per il settore automotive e la iso 14.001 e 17 025 che sono in corso e queste sono le nostre linee prodotto abbiamo un portfolio veramente completo di prodotti possiamo dire che veramente possiamo seguire i nostri clienti a 360 gradi dall'inizio alla fine della loro linea galvanica abbiamo infatti una linea di preparazione con sgrassature chimiche ed elettrolitiche decappaggi la linea del protettivo con lo zinco acido zinco alcalino zinco leghe passivazioni top coat e la neo entry che è la sezione dei lubrificanti con la linea micro light il decorativo con il rame acido alcalino satinato microporoso il nichel lucio semiducido e nostre i cromi trivalenti che sono un nostro cavallo di battaglia e tema di della giornata cromo trivalente nero e inoltre un ciclo completo di metallizzazione della plastica pop grazie al nostro silken bond abbiamo poi la linea funzionale con il nickel chimico cromo spessore leghe di stagno e stagno i metalli preziosi con tutti i preziosi e soprattutto le leghe nickel free l'alluminio con sgrassature satinanti questa anche questa è una nuova entry su cui puntiamo molto ultimamente tutti i processi prodotti che possono servire nel settore dell'alluminio per l'architettura automotive non solo e non ultimo il water care quindi tutti i prodotti che servono per il trattamento delle acque e questi sono i nostri settori di applicazione come vedete possiamo fornire prodotti e processi che vanno a svariati i mercati finali dall'aerospaziale all'automotive all'architettonico sanitari moda lusso e quant'altro possiamo affermare veramente che i nostri prodotti toccano la vita di ognuno di noi ogni giorno ed ecco è il momento di presentare i relatori di oggi alberto chiappa alberto è il mio collega da qualche anno è product manager del settore decorativo e più più per l'italia ha acquisito notevole esperienze sul campo seguendo e supportando i maggiori clienti nel settore del più più decorativo e diciamo che per me è tutto lascio la parola ad alberto e vi auguro buona visione e grazie mille a tutti per la partecipazione prego alberto grazie elga grazie della introduzione spegnerò appunto la webcam per farvi vedere meglio la presentazione ringrazio tutti oggi di essere qui presenti a questo webinar sulle nuove tecnologie della cromatura trivalente come potete vedere oggi l'agenda sarà così strutturata una piccola introdotto parlerò sulle legislazioni del RIC e degli ultimi aggiornamenti sul discorso del cromo e dell'acido cromico del cromo esavalente parleremo del Tristar 330F praticamente della terza evoluzione della cromatura trivalente con le sue principali caratteristiche e performance di processo e deposito e andremo poi a parlare in ultimo dei post trattamenti esenti da cromo esavalente per la resistenza alla corrosione in particolare il Tristar Shield e il Tristar Post Deep HM ok andiamo quindi al primo argomento di oggi ovvero appunto la situazione della legislazione RIC come possiamo vedere la data ultima è il 21 settembre 2024 per l'utilizzo del cromo triossido come potete vedere dalla cronologia siamo partiti da dicembre del 2010 che il cromo esavalente è stato aggiunto nella candidate list dei prodotti appunto da eliminare l'utilizzo per svariati motivi che essere cancerogeno mutageno e una serie di date fino ad arrivare a 18 dicembre dove la commissione europea ha utilizzato i membri e città su per gli utilizzi 1 2 4 5 e 6 come appunto vediamo in questo slide tutti questi utilizzi potranno essere utilizzati fino al 21 09 2024 quindi per formulazioni cromo spessore trattamento aeronautico e spaziale e vari trattamenti di superficie e passivazione di acciaio stagnato per quanto riguarda invece l'utilizzo 3 che è quello per quanto ci riguarda oggi nel nella presentazione dell'appunto della cromatura rivalente anche con la mordenzatura della plastica siamo in attesa una decisione da parte dell'eca per capire se confermo la data del 21 settembre la postici per anno o la anticipi per anno ok quindi coventia da anni che studia per sostituire il cromo triossido e nei diversi anni ha trovato col proprio sistema di rnd varie soluzioni in questo caso come potete vedere in questa in questa slide troviamo rappresentate le caratteristiche generali della famiglia tristar quindi delle cromature trivalenti di coventia quindi tutta questa famiglia di processi sono tecnologie esenti da cromo esavalente esenti da tensio attivi pfos e pfas di facile utilizzo hanno un aspetto del deposito omogeneo e uniforme a tutte le densità di corrente abbiamo performance di corrosione uniforme e conforme a tutti gli standard oim e una velocità di deposizione rapida e stabile nel tempo come potete trovare qui sotto abbiamo le diverse colorazioni della gamma tristar che possiamo offrire in questo momento al mercato abbiamo per quanto riguarda le colorazioni chiare il 330 af e il 300 che sono la base solfato e cloruro e poi la serie di cromature trivalenti scure che passiamo dal 765 che è la cromatura scura più chiara che abbiamo in catalogo fino ad arrivare al tristar 755 che è la cromatura nera più scura parliamo adesso del tristar 330f che è una tecnologia di ultima generazione di coventia basata su base di cromo trivalente solfato il processo è esente da ammonio ed è stato sviluppato intorno al 2017 abbiamo iniziato le prime industrializzazioni il processo ci permette di avere diverse modalità di funzionamento ottime prestazioni e la tecnologia in questo caso ci permette di soddisfare esigenze di vari mercati e applicazioni questo è spiegato in questo slide dove appunto vediamo una panoramica generale dell'utilizzo del tristar 330f allora possiamo utilizzare tristar 330f con varie modifiche al al processo con applicazioni decorative con l'obiettivo primario dell'aspetto del colore ovvero di avere un colore quindi il matching colore con cromo 6 ci permetta di avere un abbinamento molto molto facile e quindi i depositi si riescono facilmente a combinare uno con l'altro in questo caso la tonalità di colore ottenibile che è compresa è tra i valori di b di meno 0 5 e meno 0 meno 1,5 per quanto riguarda invece le applicazioni funzionale in questo caso andiamo a soddisfare le esigenze dei requisiti del UDM che sono quelle legate a elevati spessori quindi stiamo parlando di 0 2 0 3 micron e soddisfare le performance di corrosione nei cast test e nelle nebbies saline ricordiamoci che consigliamo l'abbinamento del 330f con il sistema post trattamento tristar shield che è appunto un post trattamento esente cromo che vedremo nelle prossime slide e questo abbinamento ci permette di ottenere ottimi risultati con le varie performance di corrosione quindi tutti i processi della linea tristar che andremo ad osservare oggi sono appunto la cromatura trivalente base del solfato tristar 330af il post trattamento esente cromo 6 tristar shield e un post dip esente cromo 6 di nome tristar post dip hm una cosa che ci teniamo a sottolineare che tutti i processi tristar soprattutto il tristar 330f è esente da cromo 6 da sali di azoto ammoniacale e sali di ammonio esente da cobalto esente da tensiottivi pfos e pfas allora passiamo ora a parlare del processo tristar 330af e delle principali caratteristiche del processo del sistema quindi come abbiamo già detto prima il processo a seconda del mercato a cui noi andiamo a fare riferimento può essere configurato ottenendo queste caratteristiche ovvero l'ottimizzazione delle performance di match di colore quindi con l'applicazione decorativa noi riusciamo ad avere delle performance di colore paragonabili al promo 6 in questo caso viene consigliato per settori come la sanitaria l'arredamento l'illuminazione griglie pelletteria e profumeria per quanto riguarda invece con applicazioni decorative però con carattere funzionale quindi per componenti di autoveicoli e per particolari sanitari l'applicazione funzionale ci permette di avere un potenzialmente delle performance di resistenza alla corrosione e anche un maggior spessore di deposito andiamo qui ad osservare le principali caratteristiche e vantaggi del tristar 330af possiamo dire che è un processo ormai collaudato da diversi anni su diversi tipi di materiali ferrosi e non abbiamo quindi la possibilità una versatilità del processo che ci permette di soddisfare sia performance per quanto riguarda resistenza alla corrosione quindi che necessitano di funzionalità o a carattere decorativo quindi quello di avere un matching colore con il cromo esavalente ci permette di avere il tristar 330f un'elevata produttività perché ha una caratteristica rispetto agli altri cromi rivalenti che vado sul fatto di un'alta velocità di deposizione e di una diminuzione dallo scarto su impianto produttivo diminuzione dello scarto su impianto produttivo in che senso che il sistema non soffre della passività del nickel o da interruzioni o salti di corrente come ad esempio nel bagno di cromo esavalente e il sistema ci permette anche di risolvere magari problematiche che si riscontano ogni tanto nella cromatura esavalente di bruciature. L'elettrolita può essere facilmente depurato da metalli estranei che possono essere ad esempio rame, zinco o nickel attraverso resine di scambio ionico o se necessario può essere anche trattato con lamiere selettive. Come abbiamo già detto il sistema ha un eccellente potere penetrante e offre un aspetto uniforme a tutte le gambe di densità di corrente sul nostro impianto. Allora questa slide ci accompagnerà per tutta la presentazione aggiornandoci su quali step saranno introdotti nella linea di cromatura trivalente. In questo caso potete vedere dopo il nickel lucido il nostro sistema per attivare il nickel active nickel dei lavaggi e il processo Tristar 330 AF quindi la cromatura trivalente con i suoi lavaggi. In questa slide possiamo osservare molto brevemente tutti gli additivi che sono all'interno del sistema i quali vengono utilizzati sia per il make up sia per il mantenimento delle performance del bagno nel tempo. Ok, questa slide ci permette di confrontare i parametri in funzione delle performance, in funzione delle performance sempre riallacciandoci alle slide precedenti, ovvero alla vostra sinistra potete osservare l'applicazione decorativa, quindi il sistema ha una concentrazione di cromo intorno ai 9,5 grammi in litro e ha parametri operativi di lavoro a 50 gradi e con corrente catodica di 5 ampere 10 metro quadro. Ricordiamo che questo sistema serve per appunto l'ottimizzazione del performance di match in colore con il cromo 6, quindi applicazione decorativa e possiamo ottenere valori di B intorno al meno 0,5 e il meno 1,5. Per quanto riguarda invece l'applicazione funzionale, quindi di performance di resistenza alla corrosione e di spessori, vediamo una concentrazione di cromo più elevata e condizioni operative sia in temperatura che in corrente catodica più elevate, quindi 55 gradi e 8 ampere 10 metro quadro. Riprendiamo gli stessi parametri anche in questo slide, i parametri operativi, quindi la differenza tra applicazione decorativa e funzionale 50 gradi rispetto a 55 gradi, il pH è uguale, una corrente catodica quindi che cambia tra i 4 e 5 ampere 10 metro quadro nel sistema decorativo, per arrivare a 8-10 ampere 10 metro quadro nelle applicazioni funzionali, quindi per avere spessore e depositi che resistono a corrosione. Gli anodi che vengono utilizzati sono anodi in ossidi misti, e dove Coventia prima dell'acquisto vi supporterà sul dimensionamento e appunto all'acquisto del sistema. Quindi per capitolare, il Tristar 330F ormai sono più di 4 anni, abbiamo delle esperienze produttive da vari clienti per sostituire la cromatura esavalente, abbiamo un aspetto uniforme nell'ampia gamma di densità di corrente, un'eccellente penetrazione, limitati effetti causati da interruzioni o passività del nickel, e un inquinamento sempre da trascinamento controllato attraverso un sistema di scambio ionico di redine per la depurazione. Ci teniamo a dire che il sistema Tristar 330AF è una tecnologia che è in attesa di brevetto. Ok, nelle prossime slide andremo ad analizzare nel dettaglio le performance di deposito del Tristar 330AF. In particolare andremo ad osservare il colore del deposito, la velocità di deposizione, la resistenza a prodotti detergenti e decalcificanti impiegati soprattutto nell'area sanitaria, e i test di corrosione, quindi di nebbia e salina. Ok, per farvi capire il discorso delle variazioni di colore dei vari depositi, il Cielab ci dà la possibilità di capire le caratteristiche del colore dello strato di cromo depositato. In particolare abbiamo tre coordinate colore che ci indicano le diverse tonalità. Partiamo dalla coordinata di L. La coordinata di L ha un range che va dallo 0 al 100, ovvero il valore massimo rappresenta il colore bianco, praticamente quello della massima riflessione. Invece lo 0 siamo al valore del massimo assorbimento, quindi del valore nero. Poi abbiamo altre due coordinate, che è la coordinata A e B, che non hanno invece valori ma sono soltanto o positivi o negativi. La coordinata A negativa controlla praticamente il colore verde, invece la positiva controlla il colore rosso. In ultimo la coordinata di B, positiva controlla il colore giallo, invece la coordinata negativa controlla il colore blu. Tutto questo per introdurci a questa tabella, dove mette a confronto le coordinate della cromatura esavalente con quelle della cromatura trivalente. Queste coordinate si possono ottenere attraverso uno strumento, che è il colorimetro, che ci permette appunto di ottenere queste tre coordinate colore. Come possiamo vedere, il range della coordinata di L è molto simile tra i depositi, come del resto anche la coordinata A, quindi tutto intorno a 83-85, e di A, meno 0,8, meno 0,7 per la cromatura esavalente, fino ad arrivare a meno 0,6, meno 0,4. L'ultima coordinata che rimane è la coordinata B, invece possiamo vedere che per la versione decorativa, del processo Trister 330F, è molto simile alle coordinate della cromatura esavalente, quindi con un valore di B che riesce a raggiungere anche il meno 1,5. La versione funzionale anche essa ha un valore di B comunque tendenzialmente tendente al negativo. Quindi da questa tabella cosa possiamo riassumere? Che soprattutto la versione decorativa, ma anche quella funzionale, possono essere montate con articoli in cromo esavalente, senza notare differenze di colore tra una base cromo esavalente e una base cromo trivalente Tristar 330AF. Quindi il matching colore, sia con la versione funzionale che decorativa, è paragonabile. In questa slide, invece, è stato messo a confronto l'efficienza della cromatura esavalente con quella del processo Tristar 330F con applicazione decorativa e funzionale. Quindi in questo caso cosa possiamo osservare? Osserviamo che soprattutto la versione funzionale, ma anche quella decorativa, il Tristar 330F ha una velocità superiore comunque alla deposizione del cromo esavalente. Però andando nel particolare, la versione funzionale ha una velocità di deposizione molto elevata e in 5 minuti possiamo raggiungere spessori di 0,2-0,3 micron. Quindi una velocità di deposizione che ci permette di raggiungere performance elevate anche per i vari OIM, quindi di varie richieste di corrosione delle varie case automobilistiche o vari capitolati delle diverse aree di mercato. Una cosa che ci teniamo a precisare è che l'invecchiamento della soluzione di Tristar 330F il processo non perde in termini di prestazione, quindi lavorando anche per diversi anni il processo rimane sempre stabile con queste performance di deposito. In questa slide invece sono riassunti i detergenti che sono stati testati sulla superficie di Tristar 330F A.F. Ribadisco sempre in abbinamento col post trattamento Tristar Shield che andremo a vedere nelle slide successive. Il deposito non sbiadisce, non degrada, quindi non abbiamo una variazione di colore superficiale a contatto con questi detergenti. Ok, adesso andiamo il prossimo argomento è appunto quello della resistenza della corrosione e per poter passare i test dobbiamo aggiungere un nuovo step nel ciclo produttivo che è appunto quello che ho accennato prima che è il post trattamento di Tristar Shield. Ok, il Tristar Shield è un sistema esente da Chromo 6 è un sistema passaggio unico tutti gli additivi presenti possono essere analizzati facilmente è di facile installazione dove già si utilizza post trattamento elettrolitico e l'aspetto della finitura di Chromo non cambia. Coventia in questo caso fornisce il raddrizzatore per garantire le performance del progetto. Anche questo sistema Tristar Shield come il Tristar 330 AF è in attesa di brevetto. Ok, in questa slide molto brevemente riassume alla nostra sinistra come soltanto il deposito di Chromo trivalente senza il deposito di Tristar Shield avremo una corrosione superficiale quindi il deposito di per sé soltanto di Tristar 330 AF quindi di Chromo non non è in grado di proteggersi. In questo caso attraverso il post trattamento di Tristar Shield questo crea un film di ossido di cromo superficiale che appunto deriva dal post trattamento Tristar Shield che ci permette di creare uno scudo e quindi anche di chiudere le microporosità dello strato di cromo trivalente garantendoci performance di corrosione e altre performance che andremo ad osservare nelle prossime slide appunto come vi dicevo performance in nebbia salina all'esposizione naturale e stoccaggio e per quanto riguarda di rilascio del nickel prima però uno breve accenno ai parametri operativi del sistema Tristar Shield dove lavora a 28 gradi ha un pH alcalino di 9,5 di pH una densità di 1,5 mumè il sistema richiede una filtrazione e gli anodi che vengono utilizzati per il sistema sono anodi in acciaio inox 310 o 316 ok come possiamo come possiamo vedere in in questo slide su materiale base ottone e zama che aiuta a passare le 480 ore di nebbia salina con la norma un'i iso 92 27 in particolare cosa andiamo ad osservare che i pezzi senza il post trattamento Tristar Shield dopo 480 ore ma anche prima delle 480 ore presentano delle macchie superficiali che andate andando a analizzare in profondità si va a osservare un inizio di corrosione superficiale sul pezzo al contrario con il sistema Tristar Shield queste macchie quindi questa corrosione attraverso questo scudo protettivo non abbiamo la presenza di macchie superficiali quindi un pezzo che passa la norma alle 480 ore su applicazioni acciaio questo risultato è paragonabile alla cromatura esavalente nel dettaglio come si può vedere nell'immagine il Tristar Shield riesce a proteggere le zone meno coperte e più porose sono state infatti apposto questi buchi in questi pannelli proprio per simulare le aree di bassissime densità di corrente o anche di saldatura quindi di difficile cromabilità in questo caso cosa abbiamo visto quindi che senza il post trattamento Tristar Shield abbiamo una comparsa di ruggine in questi punti soprattutto in questi punti al contrario con la presenza del post trattamento Tristar Shield abbiamo non abbiamo la presenza di questa ruggine superficiale soprattutto in queste aree meno coperte e più porose un altro argomento sempre per quanto riguarda le performance molto importante secondo il nostro punto di vista è l'esposizione naturale in che senso praticamente i pezzi praticamente esposti all'aria di tutti i giorni e cosa si osserva si è osservato che dopo diverse settimane o dopo diversi mesi dipende dalle condizioni di umidità dicendo il il deposito di cromo non protetto presenta tutti questi micro puntini che praticamente sono tutte micro corrosioni superficiali al contrario attraverso il post trattamento Tristar Shield la superficie è perfetta senza appunto questi inizi di corrosione la stessa identica cosa la si può osservare sul materiale di storcaggio quindi una volta presi i vari materiali dall'impianto e stoccati nei diversi magazzini se i pezzi non vengono trattati col post trattamento Tristar Shield che cosa si va a osservare si osservano queste sembrano delle micro salinità superficiali a volte anche come un pulviscolo bianco questo pulviscolo bianco praticamente non è altro che sia una salinità ma anche un inizio di corrosione sulla superficie del pezzo che voi con un panno riuscite ad eliminare però subito dopo alcuni giorni riavremo negli stessi punti la formazione ancora di queste di queste salinità e quindi la corrosione continuerà attraverso il Tristar Shield questo viene questo difetto viene completamente eliminato in ultimo l'altra performance secondo noi molto importante da mettere in evidenza è il rilascio del nickel attraverso la norma uni 18-11 dove il limite siamo a 0,5 microgrammi centimetro quadro settimana dove il Chromo 6 ha un valore di rilascio di 0,01 in questo caso il nostro Tristar 330 AF passa il test comunque perché comunque otteniamo uno 0,47 però come potete vedere attraverso l'aggiunta del post trattamento Tristar Shield riusciamo ad ottenere gli stessi valori della cromatura esavalente quindi una valori simili se non uguali anche di rilascio del nickel questo perché perché comunque il post trattamento crea questo guscio protettivo che ci permette di proteggere lo strato di cromo quindi andiamo a fare un breve riepilogo su tutti i concetti detti del Tristar Shield quindi conforme a reach è un processo che ormai è industrializzato da tempo soddisfa i requisiti di nebbia e saline per mille ore nelle applicazioni POP dedicate all'automobilistico 480 ore per articoli in zamottone quindi rubinetti articoli sanitari e 24 ore per l'acciaio quindi arredamento fili metallici e tutta l'area di trattamento con l'acciaio in più permette di soddisfare i requisiti in termini di rilascio del nickel come abbiamo visto nell'ultima slide di facile utilizzo è un unico step e il sistema è adatto a tutti i depositi Tristar quindi sia ai depositi chiari quindi Tristar 300 il nostro sistema di cromatura trivalente base cloruro e quello analizzato oggi il Tristar 330 AF quindi la nostra cromatura trivalente a base solfato e in più tutta la gamma dei cromi trivalenti scuri Tristar 725 755 760 e 765 un'altra problematica non scontata è la formazione della ruggine all'interno dei tubi in ferro questo perché non abbiamo il cromo 6 che fa da autocicatrizzante da passivante all'interno del nostro tubo per questo motivo come potete vedere nel nostro ciclo operativo abbiamo inserito un ulteriore step che è il Tristar Post-Dip HM questo step è un post-dip esente da cromo 6 che migliora la resistenza alla corrosione da umidità migliora la resistenza all'abrasione limita l'improntabilità e i depositi non spiadiscono come abbiamo detto appunto viene impiegato per proteggere le parti interne dei tubi quindi ci dà un'elevata protezione nell'interno tubo e quindi abbiamo una diminuzione della formazione di sali rossi attualmente questo processo viene impiegato da un importante produttore svedese del settore dell'arredamento che utilizza appunto la cromatura trivalente ecco qui riassunti sono come Elga all'inizio aveva riassunto sono i diversi quindi campi di applicazione che il TriStar 330F può toccare quindi quello che può essere il fashion il luxury l'edilizia automobilistico illuminazione l'arredamento la sanitaria quindi tutte le aree di mercato che possiamo toccare con il processo TriStar 330AF quindi arriviamo alle conclusioni di oggi di questa presentazione quindi per quanto riguarda l'applicazione per plastica e ottone Zama consigliamo il TriStar 330F con l'abbinamento al TriStar Shield per tutte le performance che abbiamo detto e per quanto riguarda su base acciaio consigliamo anche il post trattamento post dip HM appunto per il discorso della protezione turi ricordiamo che i nostri processi TriStar superano gli standard automobilistici richiesti dai più importanti OIM e i più rigorosi requisiti decapitolati delle aziende che producono articoli sanitario quindi per poter vietare ogni tipo di corrosione i depositi di cromo trivalente necessitano di un specifico post trattamento quindi i depositi di cromo trivalente intendiamo i nostri depositi TriStar in abbinamento con TriStar Shield il quale è fondamentale per cambiare le caratteristiche del film di ossido del deposito di cromo TriStar quindi questi processi questo abbinamento è già industrializzato in varie applicazioni e diversi clienti avranno un ciclo operativo completamente esente da cromo 6 entro il 2024 attraverso anche il ciclo di in questo caso parlando per la metallizzazione della plastica attraverso il ciclo System Bon quindi grazie alla tecnologia esente da cromo 6 gli step TriStar 330F TriStar Shield più TriStar PostDip HM i dipositi potranno vantare eccezionali prestazioni in termini di corrosione un piccolo un piccolo ceno per quanto riguarda il reach Coventia sta già fornendo ai propri clienti processi esenti da cromo esavalente proprio per questo ci teniamo dire che Coventia è anche in grado di fornire un ciclo completo di metallizzazione della plastica esente da cromo 6 grazie al processo silken bond che appunto è un processo esente da cromo 6 ringrazio tutti per l'attenzione grazie mila alberto l'ottima spiegazione di questo tema che sicuramente è un tema d'attualità visto che parliamo di autorizzazioni e quant'altro direi che è un tema scottante per per molti di noi grazie anche a tutti i partecipanti direi di passare alle domande che sono arrivate che sono arrivate parecchie domande vediamo a quante riusciamo a rispondere e poi come ho detto all'inizio della presentazione nel caso non fossimo in grado di rispondere a tutte le domande vi risponderemo in seguito via email iniziamo con la prima se sei pronto Alberto che dici certo che tipo di anodi sono necessari per il Tristar 330F sì come dicevo prima nella presentazione gli anodi che vengono utilizzati sono anodi in titanio ricoperti da ossidi misti in questo caso comunque i nostri agenti di zona i miei colleghi possono supportare il cliente nell'acquisto e nel dimensionamento esatto degli anodi da utilizzare nel processo di Tristar 330F ok la prossima che è arrivata è l'inquinamento metallico è un problema per Tristar 330F come si fa a gestirlo sì allora è un è un problema è un problema di facile risoluzione soprattutto i inquinamenti metallici dati da rame zinco e nickel rame intorno ai 5 ppm zinco intorno ai 10-12 e da nickel dai 50-100 ppm si possono risolvere attraverso un sistema di resine a scambio ionico che ci permette di depurare il bagno e quindi di continuare a lavorare nel tempo ok mi chiedono anche dell'inquinamento da cromo 6 può essere un problema per il Tristar 330F assolutamente sì potrebbe essere un problema l'inquinamento infatti di solito consigliamo di installare se è su un impianto che c'è anche presenza di cromo 6 di installarlo prima della cromatura esavalente o se è in sostituzione della cromatura esavalente di neutralizzare completamente la vasca o addirittura di bonificarlo o addirittura di ripare una vasca nuova per non avere tracce di cromo 6 all'interno del processo di 330F ok altra domanda che immagino si agganci a quello che hai già spiegato come è possibile installare tutti i processi Tracer su una linea esistente bella domanda nel senso che di solito le ultime installazioni che sono state fatte sono state di completa sostituzione della cromatura esavalente in cromatura trivalente quindi nella cromatura esavalente c'è una presenza di vari recuperi e lavaggi dopo il sistema cromo 6 quindi di facile installazione perché si sfruttano questi lavaggi per inserire il Tristar 330F e poi Tristar Shield nei lavaggi successivi quindi si può sicuramente installare ok grazie mille mi chiedono anche quanti step di risciacquo servono nella sequenza di processo tra i vari Tristar tra i vari Tristar mi dicono ok tra sicuramente avere un recupero e uno o due lavaggi dopo il 330F e dopo il Tristar Shield bastano sicuramente due lavaggi per entrare poi in acciugatura ok prima chiedevano il tipo di anodi necessari per il Tristar 330F adesso mi chiedono che tipo di anodi invece sono necessari per il Tristar Shield per il Tristar Shield come abbiamo inserito nelle slide dei normalissimi anodi in acciaio inox 310 o 316L perfetto come scegliamo tra l'applicazione decorativa e funzionale del processo Tristar 330F in base appunto alle performance che richiede in questo caso un cliente controterzista che performance richiedono i capitolati dei vari OEDM quindi per quanto riguarda l'applicazione decorativa per avere un colore più simile possibile al Chromo 6 quindi uguale al Chromo 6 per quanto riguarda invece l'applicazione funzionale su performance di corrosione e performance di deposito in termini di micron di spessore di cromo depositato con l'applicazione funzionale ok Tristar Post Deep HM ha un effetto antiimpronta o the watering? allora si ha un limita di improntabilità e ha un minimo effetto the watering comunque anche per il discorso the watering abbiamo al nostro catalogo tutta una serie di processi the watering che anche senza lavaggi che possono entrare direttamente in asciugatura che permettono appunto di aiutare in caso l'asciugatura non è efficiente e di migliorare quello che è in generale l'aspetto finale del pezzo subito dopo impianto grazie mille è necessario utilizzare il Tristar Post Deep HM in tutte le applicazioni del cromo trivalente Tristar no praticamente il Tristar Post Deep HM consigliamo di utilizzarlo dove abbiamo materiali acciaiosi quindi in acciaio scoperti quindi dove non riusciamo né con la nichelatura né con la cromatura a coprire il pezzo quindi in questo caso come il tubo che ho messo come esempio nella presentazione quindi questo step protegge dalla fuoriuscita della comparsa della routine ok mi è arrivata una domanda a cui posso tranquillamente rispondere io avete processi analergici nel nostro portofolio prodotti soprattutto a livello dei metalli preziosi possiamo fornire dei processi dei substrati che sono analergici perché sono nickel free e quindi superano tutti i test necessari a rispettare questa tipologia di problematica per avere maggiori informazioni a riguardo vi consiglio di scrivere di scrivere un'email a me l'email che avete ricevuto nell'invito al webinar oppure visitare comunque il nostro sito internet coventia www.coventia.com nella sezione prodotti troverete maggiori informazioni anche sui processi analergici passiamo alla prossima domanda per quanto riguarda i cromi scuri che colore hanno questi cromi scuri quindi dei cromi scuri abbiamo una vasta gamma che passiamo dal tristar 765 al 760 al 755 ogni diciamo processo ha un range di colore di solito andiamo da un l di 55 per arrivare a un l di 65 di solito andiamo ad utilizzare la coordinata di l che è appunto quella come spiegavo nel lab la coordinata che controlla il colore nero quindi un minimo di 55 ok quindi immagino tu abbia già risposto alla domanda successiva che qual è il valore di l più nero immagino sia giustamente il 55 di l di 55 assolutamente ok avete anche un cromo trivalente a base cloruro sì assolutamente sì il nostro tristar 300 un sistema che ormai è da svariati anni che è utilizzato sì assolutamente sì bene e quanti additivi ha il processo tristar shield tristar shield ha tre additivi tre additivi all'interno di cui due si fa il make up e uno si utilizza saltuariamente tutti gli additivi possono essere analizzati di facile analisi quindi niente ok è necessario neutralizzare tristar shield e quanti lavaggi sono necessari no assolutamente non c'è bisogno di neutralizzarlo di solito consigliamo due lavaggi un lavaggio per lavare il processo quindi il processo tristar shield e un ultimo lavaggio di acquademi prima di entrare nel impianto di asciugatura perfetto poi ci chiedono in riferimento all'inquinamento dei bagni le resine per abbattere gli stessi vengono fornite da voi si vengono fornite da Coventia in base a che tipo di bagno perché abbiamo resine per crometri valenti a base al solfato e resine per crometri valenti a base al cloruro si forniscono resine per e anche come strutturare il sistema di resine quindi la rigenerazione delle resine attraverso i nostri colleghi di zona supporteranno in questo ottimo stanno arrivando altre domande però purtroppo il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo come anticipato prima nei prossimi giorni sicuramente nelle prossime ore vi rispondere vi risponderemo via email se non avete ricevuto la risposta durante il webinar quello che posso dire è di ringraziare tutti quanti per la partecipazione per aver preso il vostro tempo per assistere a questa presentazione ringrazio Alberto grazie a tutti vi consiglio per ulteriori informazioni di scrivere ad Alberto all'email che vedete in questa slide che è appunto chiappa coventi.com oppure chiamarlo al cellulare per qualsiasi tipo di informazione relativa al mondo tristare non solo Alberto è a disposizione nei prossimi giorni vi invieremo anche la presentazione via email all'email che avete utilizzato in fase di registrazione per qualsiasi altra informazione vi invito anche come ho detto prima a visitare il nostro sito internet www.coventi.com vi anticipo già che abbiamo anche altri webinar in calendario per avere maggiori informazioni sui webinar il consiglio è di visitare le nostre pagine facebook e link di Indico Ventia e lì troverete i prossimi webinar sia in lingua inglese che in lingua italiana direi che per oggi è tutto ancora grazie a tutti quanti per la partecipazione e grazie mille Alberto e buon lavoro a tutti grazie a voi grazie a tutti